Le preassegnazioni salgono 83 ma le case restano per ora in cantiere, mentre per Valle c'è ancora da aspettare. Dopo le 33 destinate le famiglie di via Francesco Tedesco, stamane sono state distribuite altre 50 preassegnazioni, questa volta per gli abitanti di via Mbimbo e via Masucci. Anche loro in attesa del trasferimento negli alloggi tuttora interessati dei lavori in corso sullo stradone che collega via Mbimbo a Rione Valle, mentre resta ancora da definire l'iter per consentire alle 40 famiglie di Rione Valle di occupare i nuovi alloggi popolari. Stamane nel corso della cerimonia di consegna delle preassegnazioni, il commissario Priolo si è complimentato con il comandante della Polizia Municipale Arbonio e i tecnici dell'Ufficio delle Politiche Abitative del Comune per il lavoro svolto nella massima trasparenza e legalità, ha sottolineato il commissario. Una gestione pulita che non ha concesso spazio alla politica, quella sporca, ha dichiarato il comandante Arbonio. Abbiamo preassegnato gli altri alloggi che rimanevano nella nostra disponibilità, che sono ancora in fase di realizzazione. Stiamo completando tutto il lavoro delle politiche abitative che mi è stato calato addosso due anni fa. Dopo uno screening fatto con grande pazienza e con una fortissima carenza di personale, finalmente si arrivano i frutti. Scevri da qualsiasi interesse della politica, perché noi facciamo gestione e non facciamo politica. E se qualcuno pensava di poter utilizzare noi per scopi politici si sbaglia. Noi siamo leali verso i cittadini che hanno un titolo, che meritano l'assegnazione di un alloggio e l'abbiamo fatto seguendo quelle che sono le norme. Spostiamo, diamo la possibilità a chi ha vissuto per anni in un prefabbricato di vivere adesso in un'abitazione che gli spetta. Non gli è stato regalato niente, non c'è nessun trucco. Perché abbiamo accelerato per volontà del commissario prefettizio, il prefetto Priolo. Ci ha voluto vedere chiaro in questi procedimenti e ha accelerato la procedura. Lo abbiamo fatto ed è per questo si è sentito anche qualcuno che lamentava che fosse qualcosa di politico. Abbiamo interrotto perché per evitare qualsiasi tipo di dubbio l'abbiamo rifatto subito dopo le elezioni. Come vedete, tante chiacchiere che non porto da nessuna parte perché noi siamo leali verso la pubblica amministrazione, siamo leali verso i cittadini che hanno un titolo e hanno diritto ad avere quell'alloggio.